Sono una persona normale e credo nella giustizia e la testimonianza di Roxana, la barista che a Roma nel 2018 subì il raid dei Casamonica. Gli uomini del clan sono stati condannati in via definitiva e lei non ha più subito intimidazioni. Roberta Ferrari. Tutte le mattine Roxana apre il suo bar. Non ha mai smesso di farlo e non ha mai perso il sorriso. È diventata un simbolo di coraggio in questo quartiere difficile della capitale. Alla romanina spadroneggiano i Casamonica. Due anni fa, nel giorno di Pasqua, Roxana ha denunciato quattro uomini del clan che avevano aggredito brutalmente nel locale una ragazza disabile e il marito di Roxana intervenuto per difenderla. Volevano essere serviti per primi i Casamonica. Nonostante le intimidazioni, Roxana non ha mai fatto passi indietro. Grazie alla sua denuncia, i quattro sono stati condannati. Hai avuto molto coraggio? Sì, coraggio. Per me è comunque normale. Penso che quando vieni attaccato ti devi difendere, quindi è la legge della natura. Ci sono delle cose che non possono andare oltre, quindi sì, preferisco dire sempre legalità e giustizia. Su una parete una foto. Roxana nominata cavaliere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato un bel momento per me, è stato speciale perché io sono una persona normale. Oggi per Roxana e il marito Marian stanno arrivando anche i 40.000 euro di risarcimento dal fondo del Viminale per le vittime di reati di mafia. Questo riconoscimento non è da poco, quindi sono veramente contenta. Il fondo garantisce l'effettivo risarcimento dei danni per chi denuncia e ottiene una sentenza di condanna.